Stipendio insegnanti e ATA 13esima 2024 più bassa, anche fino a 500 euro. Ecco perché. L'importo dello stipendio di dicembre 2024 è visibile su Noipa per agevolare le spese natalizie, ma ha deluso alcuni lavoratori rispetto al 2023. La tredicesima mensilità del 2024 include un bonus natale fino a 100 euro per chi ha un reddito annuo fino a 28.000 euro e specifici requisiti familiari. Il confronto tra la tredicesima del 2024 e quella del 2023 è inesatto, poiché quest'ultima includeva un anticipo del rinnovo contrattuale una tantum. Molti dipendenti esprimono delusione per la tredicesima ridotta del 2024, evidenziando come l'importo limitato influisca negativamente sul loro morale.